Grazie. 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 Grazie a questo incontro proposto dal Festival Francescano, di cui state vivendo l'esperienza, in collaborazione con l'Officina San Francesco Bologna, che è un'attività culturale della Basilica di San Francesco qui di Bologna. Salute a voi, saluto chi ci accompagnerà in questo nostro incontro, questa lettura d'Antis Franciscana, che ha raggiunto il quarto anno di attività. Saluto Giuseppe Ledda, che è il tantista dell'Università di Bologna, è il curatore di questa rassegna, che prevede anche quest'anno tre incontri. Uno l'abbiamo vissuto sabato scorso in San Francesco, uno appunto quello a cui state partecipando e il prossimo sabato, il sabato che verrà sempre in Biblioteca San Francesco, in Piazza San Francesco. Saluto Francesco Santi, che è il filologo, che ci introdurrà nell'ascolto del canto, a cura di Jacopo Trebbi, che adesso non c'è l'attore, che si mostrerà nel momento opportuno. Saluto in particolare Marta Cartabia, i titoli adesso li risparmio, perché penso che siano conosciuti. Io la ricordo all'inaugurazione del centenario dantesco a Ravenna nel settembre del 21. Allora era presidente della Corte Costituzionale e quindi era la quarta carica dello Stato, ma lì era la seconda perché c'era il presidente della Repubblica. Mi fece specie il fatto di impederla in quella circostanza perché probabilmente non era tenuta a essere presente, ma c'era una volontà di esserci. E questa volontà diceva una stima che poi l'ha portata fin qui, nel senso che ha accettato la mia insistenza di un anno, due anni, tre anni. Siamo dal 21 al 24 che ci provo e finalmente eccola. Grazie. Quale cosa che devo dirvi è, c'è questa importante, che potete fare una donazione per l'attività, per l'iniziativa che state vivendo. Potete rivolgervi per le donazioni al festival ai volontari che hanno la maglietta arancione. Grazie al sostegno di Lega Coop che sostiene in particolare questo momento. Do la parola per un brevissimo saluto a Simone Gamberini. Eccolo qua. Buon pomeriggio a tutti. Vi roverò poco tempo, ma ci tenevamo come Lega Coop a manifestare la vicinanza al festival francescano e anche all'evento di questa sera. Lega Coop ormai da tre anni sostiene il festival francescano in un'armonia di valori condiviso, che sono in gran parte anche i valori della cooperazione. Valori che cerchiamo di praticare, di rinnovare da sempre, dall'inizio della nostra storia ormai 140 anni fa. E che pensiamo costituiscono un'alternativa alle convenzioni che hanno generato tutti i problemi che oggi stiamo vivendo, le tante disuguaglianze non solo collegate alla crisi economica e sociale che viviamo. A quell'alienazione delle persone, nell'economia e nel lavoro e alla distruzione anche della natura che ci circonda. Pensiamo che fin dall'alba dell'umanità la differenza l'ha fatta la capacità di lavorare insieme, con chi ci accanto e ancora di più con chi percepiamo diverso da noi. Solo così, in modo collettivo, questo è il nostro modo di vivere, anche il fare imprese, è possibile affrontare sfide, altrimenti impossibili, per un singolo individuo. Dove costruire insieme una società più equa e più giusta, questo è l'obiettivo più alto della cooperazione. Sono valori molto diversi e anche alternativi a quelli che hanno isperato l'economia negli ultimi decenni. Per noi l'economia non è e non è mai stata lo strumento finalizzato a un maggior lucro. E come ecosistema cooperativo da sempre abbiamo messo le persone al centro della nostra esperienza imprenditoriale, rafforzando ogni giorno il nostro impegno per offrire un contributo alla costruzione di un modello di sviluppo più eco, inclusivo e sostenibile sotto il profilo ambientale, economico e sociale. Non mi addentro nelle riflessioni che farete tra poco, ma noi sappiamo con Dante che la ragione può condurci alla sola felicità terrena, che non assicura però la salvezza eterna. Per quest'ultima è necessaria la giustizia divina che si muove però secondo criteri che sono decisamente impescrutabili al mondo e tanto più a noi. Pensiamo però sia doveroso e necessario curare quelle ferite che vediamo attorno a noi e che riteniamo sia ancora più urgente smettere di crearne soprattutto delle nuove. Perché in fondo perseguire la felicità terrena per più esseri umani possibili è un obiettivo per cui vale certamente la pena di muovere tutte le nostre forze e le nostre speranze. Ed è quello che la cooperazione in Italia e nel mondo continua a fare associando quasi 3 milioni di cooperative e quasi un miliardo di persone che vivono e lavorano con quei principi e quei valori. E quindi è con questa sintonia che sosteniamo il Festival Francescano e continueremo a sostenere le attività del Festival Francescano come associazione di impresa che rappresenta tante imprese che poi sono presenti oggi e in questi giorni al Festival e a sostegno del Festival e nella quotidianità del rapporto con il mondo francescano. Grazie a tutti e direi che possiamo lasciare la parola. Buonasera anche da parte mia, è una grande gioia avere questa opportunità di svolgere uno degli incontri della lettura d'Antis franciscana nella cornice nell'ambito del Festival Francescano. E' credo il terzo anno che abbiamo questa fortuna ed è sempre bellissimo uscire dal nostro pur splendido ambiente che è quello della Biblioteca San Francesco al Convento San Francesco di Bologna e venire qua in piazza per incontrare ancora più persone di quelle che vengono a trovarci nella Biblioteca di San Francesco. La lettura d'Antis franciscana è una lettura d'Antis per l'appunto, quindi leggiamo un canto della Commedia di Dante come si fa in tante città, in tante istituzioni accademiche, però non è una lettura accademica ma è una lettura franciscana nel senso che è una lettura che si rivolge alle persone comuni, all'uomo qualunque purché sia mosso dalla curiosità, dall'interesse, dal desiderio di un momento di bellezza e di riflessione grazie alle parole e alla poesia di Dante. E quindi è costruita in questo modo, scegliamo un canto tra i più belli della Commedia e abbiamo un dantista, uno specialista, uno studioso che in modo breve e incisivo ce lo presenta ci fa capire i nuclei, i narrativi più importanti, i significati principali in modo che poi quando il nostro attore Jacopo Trebbi reciterà questo canto noi possiamo seguirne il racconto, comprenderne le parole, coglierne i significati e poi invitiamo di volta in volta una personalità del nostro tempo un intellettuale, un imprenditore, un giurista, un filosofo, uno scrittore, uno scienziato al quale chiediamo di riflettere su una delle parole del canto di Dante ma riflettere non da studioso di Dante, da dantista ma da protagonista del nostro tempo con le sue competenze, il suo sguardo, la sua prospettiva e quindi vengono fuori sempre delle cose bellissime perché abbiamo la poesia di Dante, ce la godiamo ma poi vediamo come la poesia di Dante e le sue parole ci possono aiutare grazie alla presenza di queste grandi personalità a riflettere sul nostro tempo, sul senso di questa parola di Dante nel nostro tempo oggi il programma prevede uno dei canti più belli in assoluti della commedia il terzo canto del Purgatorio, il canto di Manfredi il canto delle ferite di Manfredi come si ricordava prima il canto della richiesta di perdono un canto straordinariamente bello, importante e sorprendente per il lettore e abbiamo a presentarlo il professor Francesco Santi che è professore di letteratura latina medievale qui all'Uesta di Bologna è grande studioso di letterature e di filosofia medievale il canto come sempre sanno i nostri affezionati i partecipanti alle letture che facciamo in ufficina a San Francesco e Jacopo Trebbi che già ad alcuni anni ci accompagna con le sue magistrali recitazioni del canto e la personalità che abbiamo la fortuna di avere oggi come annunciava naturalmente Fra Maurizio come potete vedere è la professoressa Cartabia che noi abbiamo individuato fin dall'inizio come una delle personalità giuste cioè quando pensavamo a una personalità che potesse dialogare con noi su una parola di Dante pensavamo alla professoressa Cartabia e alla parola giustizia e finalmente ci siamo arrivati perché naturalmente i molteplici impegni anche di governo, di tipo istituzionale le hanno impedito negli anni scorsi di accettare il nostro invito quest'anno invece l'è stato possibile e siamo felicissimi dunque la parola giustizia però questo canto che appresenta la parola giustizia sia pure in una forma sinonimica il termine ragione che indica la giustizia qua nel senso di giustizia divina presenta tante altre parole straordinariamente importanti e interessanti la parola peccato la parola perdono la parola preghiera e la parola ferita ferite al plurale o con anche una serie di sinonimi piaghe, punte e dunque ecco la professoressa Cartabia ha avuto questo privilegio finora unico ad avere due parole perché di solito è solo una parola ma lei naturalmente abbia un concesso la parola giustizia che le aspettava di diritto e poi la parola ferite che ha voluto scegliere come una chiave di lettura di questo canto ma anche delle riflessioni che ci vorrà proporre quindi ecco abbiamo un po' presentato il quadro di quanto ci aspetta nel pomeriggio a questo punto ringraziandovi tantissimo per la vostra presenza ringraziando il Fese da Francescano ringraziando Fra Maurizio il Convento dei Francescani di Bologna e tutta l'organizzazione cedo la parola al professor Francesco Santi per una breve presentazione del terzo canto del Purgatorio grazie e buon pomeriggio ecco buonasera anch'io vi ringrazio di essere qui e ringrazio gli organizzatori che mi hanno invitato sono molto contento di parlare di dire qualche parola introduttiva nella circostanza dell'intervento di Marta Cartabria Cartabria perché ho per lei grande ammirazione come penso a tutti voi leggerò i miei allievi mi hanno già criticato per questo ma in questa maniera voi sarete sicuri che il mio intervento non durerà più di dodici minuti e inoltre avete un attestato del mio desiderio di adempiere alla mia responsabilità avrò molte correzioni e sono quelle nelle quali mi compiaccio dunque il terzo canto del Purgatorio che ora leggeremo insieme ci porta sul regno sulle soglie del regno della dura delicatezza con la quale nel fantastico universo di Dante le anime ancora imperfette si preparano alla felicità assoluta della beatitudine purificandosi per diventare del tutto degne del cielo i protagonisti di questo mondo si presentano a noi subito segnati da un entusiasmo tremolante eppure intenso e definitivo nel quale il sapore della salvezza attesa supera tutto già in questi primi versi coglieremo questa dimensione che accompagnerà Dante fino alla vetta della grande montagna vetta che ancora è vista come quasi inarrivabile già qui si sente il crescere drammatico della storia diversa di Virgilio che suonerà la corda amara del racconto in particolare su questa soglia non ancora dentro al percorso purgatoriale ma sicuri di poterlo intraprendere Dante ci presenta i salvati senza altro merito che un pentimento estremo in punto di morte il pentimento che li portò a chiedere perdono meritando la salvezza soltanto per questa estremità tra essi vi è anche uno scomunicato e maledetto dalla chiesa il principe Manfredi di Svevia soggetto dunque alla più dura e autorevole sentenza di giustizia che sulla terra si potesse dare al tempo di tante figlio e successore di Federico II era stato sconfitto da Carlo D'Angio nella battaglia di Benevento nel 1266 e in essa ucciso ponendo fine alle speranze riposte nell'impero da parte di molti Manfredi ci viene incontro come giovane bellissimo sorridendo con ferite al volto e al petto quelle ferite mantengono il ricordo di orribili peccati eppure sono trasformate nella ritrovata bellezza e in quel sorriso nel loro brutale splendore quelle ferite evocano le stimate di Cristo di Cristo risorto e fanno di Manfredi forse il più rappresentativo degli abitanti del purgatorio Manfredi ricorda i suoi irribili peccati e il suo affidarsi a Dio e l'incontro con la misericordia divina avvenuto quando ormai per lui non restava alcuna speranza di vita perché questo canto prenda più comodamente ad abitare la nostra mente preparandoci a ragionare di ferite e giustizia cioè di una frattura dell'organismo sociale e degli atti che vorrebbero servire a sanare quella fattura in quello stesso organismo e nelle persone che l'hanno compiuta per prepararci a ragionare di questo vorrei soffermarmi su tre espressioni che corrispondono agli snodi del racconto della storia di Manfredi la prima di queste tre espressioni è io mi rendei al culmine del resoconto di una dura sconfitta la seconda espressione la scelgo tra le parole con cui Manfredi parla del Dio che egli scopre volgendosi alla sua faccia alla sua bontà infine mi soffermerò sulla terza espressione che ricorda il decreto per il quale Manfredi Manfredi stesso deve ancora attendere un tempo corrispondente a 30 volte il tempo che egli è stato in sua presunzione prima di iniziare il suo cammino di purificazione nel purgatorio soffermandomi su questi tre luoghi vorrei mostrare come il nostro terzo canto sia tra quelli che è più utile ricordare bene e come esso sia anche da ricordare perché ci aiuta a comprendere come davvero possa realizzarsi l'opera risanatrice di fratture e ferite che affidiamo alla giustizia umana questo diritto alla memoria si verifica per questo canto perché in esso Dante ci insegna come il senso della storia umana non stia solo nella storia eppure come la storia umana intera faccia parte di questo senso più alto ovvero il canto ci insegna che il senso della storia appare nella scoperta meravigliosa che il valore di una persona non si riduce mai al giudizio storico che su di lei si dà anche se lo stesso rispetto della persona richiede a volte che un giudizio sia formulato proviamo dunque a leggere poscia ch'io ebbi rotta la persona di due punte mortali io mi rendei piangendo a quei che i volentieri perdona orribili furono i peccati miei siamo al punto culminante del racconto di Manfredi e i commentatori hanno qualche volta cercato di vedere nelle parole che Dante gli attribuisce una vera confessione rapida ma appropriatamente articolata ma si tratta davvero di una confessione notate l'insistenza sui pronomi personali e sui possessivi riferiti alla prima persona io ebbi rotta la persona io mi rendei e i peccati miei furono orribili questo insistente riferimento a se stesso caratterizza tutta la prima parte del discorso di Manfredi e in questi sei versi diventa più più denso con quattro ravvaccinate occorrenze avvisandoci che il protagonista sta raccontando qualcosa che ha coinvolto la sua persona che è avvenuto nella sua intimità che cosa è avvenuto che cosa è avvenuto chiedo scusa dell'interruzione buonasera scusate l'interruzione un bambino circa dieci minuti un quarto d'ora fa dal McDonald si chiama Adam ha otto anni è alto circa un metro e trenta e indossa una giacca jeans con le maniche di colore marrone se lo vedete è scomparso il papà insomma ci ha contattato grazie grazie quindi un avviso per tutta la piazza anche chi non è seduto per la conferenza se vedete un bambino di otto anni di colore con una giacca di jeans con una giacca di jeans per cortesia chiamate il 113 grazie bene speriamo che questo ragazzo venga ritrovato e se venisse ritrovato mentre ancora siamo insieme vi racconterò quando io mi sono perso e creai grande spavento nella mia famiglia poi mi ritrovarono e spero che anche questa sia la circostanza che abbiamo incontrato dunque allora che cosa è avvenuto nel momento in cui Manfredi dice io mi rendei io ebbi rotta la persona io mi rendei che cosa è avvenuto non so se avete osservato questa piccola analisi grammaticale di questi sei versi in cui ho evocato la persistenza di pronomi personali e aggettivi riferiti possessivi alla prima persona allora questo ci aiuta a capire che cosa è avvenuto mi pare non so se Dante lo avesse presente ma la circostanza ricorda l'inizio del testamento di Francesco d'Assisi Francesco d'Assisi in uno dei suoi testi più conosciuti e più diffusi in quell'inizio in quell'inizio del testamento anche Francesco parla della propria conversione in sei linee inserisce sei pronomi personali di prima persona a me facevano schifo i lebrosi Dio portò me tra loro io feci misericordia a loro io sentii piacere di anima e di corpo l'accostamento ci aiuta a comprendere come anche nel caso di Manfredi non si tratti tanto del rosseconto di una rapida ed estrema confessione quanto piuttosto del racconto di una conversione dove intanto le due punte mortali che fuoriscono il corpo di Manfredi fanno la parte dell'ebroso attraendolo e costringendolo a una situazione inattesa Dante spiega allora cosa fu in Manfredi quella conversione e ci lo dice bene con quel io mi rendei di cui vorrei misurassimo la densità il riferimento ad altri luoghi danteschi notati dalla Chiavacci Leonardi ci consente di parafrasare con sicurezza l'espressione io mi rendei con io mi arresi che è una parola che lascia a Manfredi il suo profilo vero cioè quello di un uomo di guerra ucciso mentre guardava in faccia il nemico come le sue ferite attestano e che con le parole della guerra ci dice di essersi consegnato all'amore di Dio come un guerriero che si arrende si offre a chi lo ha superato in battaglia Dante poteva leggere espressioni del genere nella tradizione della mistica cristiana il suo Manfredi si converte come si convertì Paolo mentre faceva guerra ai cristiani e fu abbattuto dalla grazia che lo investe come una grande luce egli Manfredi si convertì come Geremia che ricorderà a tutto il latino a tutto il medioevo latino fortior me fuisti et invaluisti sei stato più forte di me mi hai battuto Manfredi parla come un soldato ma vive l'esperienza di un estatico perché la conversione è sempre un evento mistico un incontro faccia a faccia con Dio quell'evento mistico porta Manfredi in cielo non una confessione una conversione in quanto esperienza mistica nella conversione di Manfredi realizza e scopre pienamente se stesso ma anche partecipa a una visione di Dio vede Dio la conversione corrisponde cioè a un'estasi nella quale si vede o si percepisce magari solo un bagliore solo una scintilla della virtù divina quella scintilla è però più luminosa di qualsiasi luce e incendia e rende splendente tutta la materia d'amore che un uomo può portare alla domanda a proposito di cosa allora il giovane Manfredi ha visto della forza di Dio direte che la risposta è facile Dante ci dice esplicitamente che ha visto colui che volentier perdona la cui bontà infinita assigran braccia che prende ciò che si rivolge a lei bisogna però evitare di farci portare da questi concetti verso l'astrazione non è che ci si converta perché si capisce che se Dio c'è deve essere buono perché si è insinuato nei miei pensieri le virtù anche quelle intellettuali preparano la conversione ma non la costituiscono l'amore non si può imparare la conversione è in Manfredi e in tutti un'esperienza egli vede e tocca qualcosa e ce lo dice per capirlo come sempre dobbiamo solo leggerlo cioè mettersi a tu per tu con le parole e guardare alle parole significa prima di tutto fare l'analisi grammaticale bene i nostri cari versi oltre che di pronomi personali sovrabbondano di espressioni al femminile le due costanza sono evocate da Manfredi per presentarsi una nonna e una figlia Dio è bontà e ha braccia grandi braccia e finalmente questa bontà ci fa scoprire un'altra faccia di Dio possiamo poi proporre una notazione tematica oltre a rilevare questi nomi al femminile noi ci ricorderemo per sempre che Manfredi era bello certo i maschi si ricorderanno che ha ferite al petto e al volto segno di audacia ma la nonna e la figlia ricorderanno la bellezza del suo volto e del suo corpo come le mamme che secondo Dante aspettano i corpi risorti dei loro figli che neanche nella beatitudine celeste possono smettere di desiderare per abbracciarli ricordandone comunque la bellezza nei versi in cui Manfredi parla della misericordia divina egli ne evoca la femminilità vede la pervasiva e veritiera femminilità di Dio le rapide considerazioni che avanziamo sul testo diventano più forti se ricordiamo che la tradizione medio latina ha sempre considerato la misericordia come una vertù femminile di Dio non si trattava di un'idea limitata ad un'aristocrazia intellettuale di monaci o di maestri era l'idea che nel secolo di Dante si predicava al popolo come attestano per esempio i sermoni di Antonio da Padova che ancora ci ricordia misericordia in Dio est quasi femmina pulos custodians che custodisce i pulcini giustizia est quasi masculus andando avanti nella lettura del canto si potrebbe però ritenere e siamo alla terza e ultima espressione Dante in contraddizione quando ci parla di questi potentissimi decreti dopo aver riconosciuto in Manfredi la forza di un incontro senza mediazioni tra Dio e l'uomo la conversione l'estasi Dante dichiara inevitabile che gli scomunicati per quanto perdonati e ammessi al purgatorio devono attendere per un periodo di tempo pari a 30 volte la durata del periodo della loro separazione dalla chiesa le preghiere dei vivi potranno abbreviare questo periodo tuttavia per decreto il periodo di attesa resta necessario la giustizia divina è dominata dalla misericordia divina e possiamo dire che nel Dio cristiano il regime è matriarcale ma la potenza della volontà di Dio della bontà di Dio non cancella la giustizia umana che in questo caso è rappresentata dagli strumenti dell'ufficio ecclesiastico dai suoi decreti come può accadere questo ebbene in questa apparente contraddizione vi è il duplice riconoscimento del valore della chiesa ma anche del valore della storia umana un riconoscimento che è necessario all'ipotesi mistica che ho illustrato dobbiamo chiederci come nei visionari la certezza di aver visto Dio possa prevalere sul dubbio di aver subito un'allucinazione dobbiamo domandarci quale riscontro razionale e obiettivo una tale certezza statica possa avere essa si basa sull'idea che Dio causa incausata dell'universo fondamento dell'universo possa occuparsi e aver cura dell'assoluta particolarità dell'umile singolarità di qualsiasi uomo questo è concepibile solo se si attribuisce a Dio la figura dell'altissimo nell'umiltà per un amore sconfinato che è la figura di Cristo il Dio che è entrato realmente nella storia e non per un momento ma per restarci per sempre realmente nella chiesa per mezzo dello spirito nei sacramenti delle molte figure personali o impersonali che l'umanità può riferire a Dio solo questa figura rende plausibile l'esperienza dei mistici e dunque anche quella di Monfredi la legittimità storica della chiesa e dei suoi decreti è necessaria per pensare plausibile la mistica anche la conversione di Monfredi il fatto poi che la chiesa possa risultare tale da lasciare ben aperta la possibilità della non fede è del tutto analogo a quanto era avvenuto all'umanità di Cristo nella cui esperienza sulla terra non tutti videro la divinità ciò ancora corrisponde all'amore divino per la storia degli uomini amore che non può che riconoscere ed esaltare la storia come storia della libertà sarete impazientissimi di ascoltare Dante e Marta Cartabia e dunque concludo Dante vuole dirci che Manfredi ha conosciuto Dio vuole dirci che lo ha conosciuto come madre questo Dio misericordioso però non disprezza la storia e la sua giustizia e a ciò corrisponde nel nostro caso la realtà storica della Chiesa secondo una logica stringente che include ma supera la logica della ragione vorrei che si osservasse per quel che vale che siamo di fronte ad un'operazione intellettuale impegnativa che si articola in conseguenze decisive se in essa si esprime la figura di Dio che Dante offre ciò serve per comprendere la nostra storia il ruolo che il medioevo ha avuto nel formare le nostre autocoscienze e la pesantezza di un futuro che non fosse munito di una analoga autocoscienza la bellezza sorridente di Manfredi serve per capire le nostre ferite e quelle degli altri e serve a capire il senso importante dei nostri pur esili decreti dandoci un'ipotesi di risposta a proposito della domanda su che cos'è la storia e che cos'è la persona grazie ringraziamo moltissimo Francesco Santi per questa splendida presentazione del terzo canto del purgatorio che ci ha dato la possibilità di cogliere le principali linee narrative e di comprendere alcuni dei significati più profondi quindi ora siamo pronti per godere l'ascolto della recitazione del canto da parte del nostro Jacopo Trebbe grazie buonasera a tutti avvegna che la subitana fuga dispergesse color per la campagna rivolti al monte ove ragione fruga i mi ristrinsi alla fida compagna e come sarei io senza lui corso chi m'avria tratto su per la montagna el mi parea da se stesso rimorso o di ignietosa coscienza e netta come te picciol fallo amaro morso quando quando i piedi suoi lasciar la fretta che l'onestà di adognatto dismaga la mente mia che prima era ristretta lo intento rallargò siccome vaga e diede il viso mio incontro al poggio che in verso il cielo più alto si dislaga lo sol che dietro fiammeggiava roggio rotto mera dinanzi alla figura che avea in me dei suoi raggi l'appoggio io mi volsi dal lato con paura d'essere abbandonato quando io vidi solo dinanzi a me la terra oscura e il mio conforto perché pur di fidi a dirmi cominciò tutto rivolto non credi tu me teco e che io ti guidi vespero è già colà dove è sepolto lo corpo dentro al qual io facea ombra Napoli là e da brandizio è tolto ora se innanzi a me nulla sa ombra non ti maravigliar più che di cieli che l'uno all'altro raggio non ingombra a sofferir tormenti caldi e geli simili corpi la virtù dispone che come fa non vuol che a noi si sveli matto è chi spera che nostra ragione possa trascorrere la infinita via che tiene una sostanza in tre persone state contenti umana gente alquia che se potuto aveste vedere tutto mestier non era parturir Maria e desiar vedreste senza frutto tai che sarebbe lor disio quetato che eternalmente è dato lor per lutto io dico d'aristotile e di plato e di molt'altri e qui chi non la fronte più non disse e rimase turbato noi divenimmo intanto a piede del monte qui vi trovammo la roccia si erta che in darno vi sariono le gambe pronte tra l'erice e turbia la più diserta la più rotta ruina è una scala verso di quella agevole e aperta or chissà da qual man la costa cala disse il maestro mio fermando il passo si che possa salir chi va san sala e mentre che tenendo il viso basso essaminava del cammin la mente e io mirava suso intorno al sasso da man sinistra mi apparì una gente d'anime che movieno i piedi per noi e non pareva si venian lente leva disse io maestro gli occhi tuoi ecco di qua chi ne darà consiglio se tu da te medesmo aver non puoi guardò allora e con libero piglio rispose andiamo in là che i vegno un piano e tu ferma la spene dolce figlio ancora era quel popol di lontano io dico dopo i nostri i mille passi quanto un buon gittator trarria con mano quando si strinser tutti ai duri massi dell'alta ripa e stai per fermi e stretti come a guardare chi va dubbiando stassi o ben finiti o già spiriti eletti Virgilio incominciò per quella pace che io credo che per voi tutti s'aspetti ditene dove la montagna giace sì che possibile sia salire in suso che perder tempo a chi più sa più spiace come le piccorelle escono del chiuso a una a due a tre e l'altra stanno timidette atterrando l'occhio e il muso e ciò che fa la prima e l'altra fanno addossandosi a lei se la s'arresta semplici e quete e non perché non sanno si vidio muove a venir la testa di quella mandra fortunata allotta pudica in faccia e nell'andare onesta come color dinanzi vide rotta la luce in terra dal mio destro canto sì che l'ombra era da me alla grotta restaro e trasserse indietro alquanto e tutti gli altri che veniano appresso non sapendo il perché fenno altrettanto senza vostra domanda io vi confesso che questo è corpo uman che voi vedete perché il lume del sole in terra è fesso non vi maravigliate ma credete che non senza virtù che da ciel vegna cerchi di soverchiare questa parete così il maestro e quella gente degna tornate disse entrate innanzi dunque coi dossi delle man facendo insegna e un di loro incominciò chiunque tu sei così andando volgi il viso ponmente se di là mi vedesti unque io mi volsi per lui e guardai il fiso biondo era e bello e di gentile aspetto ma l'un dei cigli un colpo avea diviso quando io mi fui umilmente disdetto d'averlo visto mai e il disse or vedi e mostrò mi una piaga assommo il petto poi sorridendo disse io son Manfredi nepote di costanza imperatrice ond'io ti priego che quando tu riedi vadi a mia bella figlia genitrice dell'onor di Sicilia ed Aragona e dichi il vero a lei s'altro si dice poscia che io ebbi rotta la persona di due punte mortali io mi rendei piangendo a quei che volentier perdona orribili furon li peccati miei ma la bontà infinita assi gran braccia che prende ciò che si rivolge a lei se il pastor di Cosenza che alla caccia di me fu messo per Clemente allora avesse in dio ben letta questa faccia l'ossa del corpo mio sarieno ancora in codal ponte presso a Benevento sotto la guardia della grave mora or le bagna la pioggia e muove il vento di fuor dal regno quasi lungo il verde dove i le trasmotò a lume spento per l'or maledizione si non si perde che non possa tornare l'eterno amore mentre che la speranza fior del verde vero è che quale incontumace amore di santa chiesa ancor che al fin si penta starli convienda questa ripa in fore per ognun tempo che gli è stato trenta in sua presunzione se tal decreto più corto per buon prieghi non diventa vedi oggi mai se tu mi puoi far lieto rivelando alla mia buona costanza come mai visto e anche sto divieto che qui per quei di là molto s'avanza grazie a jacopo trebie come avete capito perché abbiamo scelto jacopo vogliamo solo lui per la recitazione dei canti perché li studia li impara li approfondisce li fa propri e poi ce li restituisce in modo che anche chi non li ha studiati possa accoglierne i significati e ora abbiamo la bellezza il momento che abbiamo aspettato quello di ascoltare la professoressa Cartabia che conoscete tutti ma premettetemi due parole soltanto su alcuni dei titoli più importanti è professoressa di diritto costituzionale attualmente all'università Bocconi di Milano è stata giudice della corte costituzionale presidente della corte costituzionale è ora presidente emerita della corte costituzionale ministro della giustizia e quindi una personalità non soltanto una grande accademica una grande studiosa ma una persona che ha messo al servizio della comunità il suo sapere i suoi studi la sua saggezza il suo equilibrio e quindi ha dato un grande contributo alla nostra comunità e speriamo che lo possa dare ancora in altre occasioni ancora più importanti Marta Cartavia ancora sotto l'urto della commozione della lettura che Jacopo ci ha regalato poco fa forse vi starete chiedendo perché una persona come me a commentare un canto di Dante della Divina Commedia perché una persona come me a parlare di ferite una giurista che si occupa di diritto e giustizia che c'entra la giustizia con le ferite vi rispondo con le parole di John Brightwaite che è un grande studioso australiano che ha vinto qualche settimana fa il premio Balsam per la giustizia riparativa la sua idea di giustizia è questa poiché semplice poiché l'ingiustizia ferisce la giustizia dovrebbe provare a curare non è comune parlare di giustizia e di ingiustizia in termini di ferita e di cure ma chiunque di noi e sfido ciascuno di voi a pensare a qualche episodio della sua vita vissuta ha subito un'esperienza di ingiustizia sul lavoro da un amico in famiglia a scuola dai vicini un furto uno scippo un'offesa un insulto un'aggressione chiunque vada col pensiero a un vissuto di piccola o grande ingiustizia sa bene che l'esperienza dell'ingiustizia è proprio una ferita è un trauma che lascia un segno duraturo l'ingiustizia cioè è anzitutto violazione della persona è rottura di rapporti è perdita della fiducia che lega le persone prima e oltre che mancato rispetto di una regola di una legge o di una norma per questo l'ingiustizia è una ferita bruciante ed è una ferita difficile da guarire che si infetta facilmente più di altre la vita ferisce in tanti modi il tempo che passa lutti terremoti alluvioni catastrofi perdite di affetti di amori di beni di risorse ma la ferita dell'ingiustizia ha un pungiglione particolarmente accuminato perché è l'altro che mi ferisce è una ferita generata per monoduomo che potrebbe non esserci e di qui guerre conflitti nemicizie rancori risentimenti che possono durare una vita intera nell'esperienza dell'ingiustizia c'è una ferita subita dalle vittime dalla comunità intera ma c'è anche una ferita agita dagli autori la quale lascia pure una traccia profonda nella vita di chi l'ha agita e talvolta deriva a sua volta da ferite subite entrambe la ferita agita e la ferita subita hanno bisogno di essere curate dico subito che non qualsiasi forma di giustizia è in grado di curare le ferite ed è questa la domanda di fondo attraverso la quale vorrei questa sera ripercorrere qualche immagine di questo splendido canto che ci rappresenta Manfredi ferito nel terzo canto del purgatorio la domanda allora è qual è la giustizia che cura che si prende cura delle ferite di tutti l'immagine di Manfredi mi suggerisce tre spunti è un vizio dei professori articolare i discorsi su tre spunti ma funziona abbastanza bene almeno sapete che cosa vi aspetta il primo deriva dal famosissimo verso che abbiamo appena sentito biondo era bello e di gentile aspetto è uno dei versi più famosi per descrivere la bellezza umana ma l'undecigli un colpo avea diviso allora la bellezza di Manfredi non è perfezione che pure non perde il suo fascino ma un sopracciglio rotto da un colpo d'arma la ferita di Manfredi è uno sfregio che sicuramente deforma l'armonia originaria del volto ma non lo deturpa Manfredi è bello e sorridente le sue ferite non sono scomparse ma non hanno il potere di rubargli la bellezza com'è possibile di quale bellezza stiamo parlando il primo spunto su cui vorrei attirare la vostra attenzione è che comunemente pensiamo al bello al bello dell'aspetto ma al bello dell'esistenza come a un'armonia a una perfezione delle forme delle proporzioni ma in una concezione così della bellezza non c'è spazio per le ferite per le cicatrici che devono essere rimosse magari dall'intervento di qualche bravo chirurgo ma c'è un altro modo di guardare la bellezza perdonatemi una divagazione ma c'è un artista che mi ha molto colpito per il suo rapporto tra la bellezza e le ferite ed è Alberto Burri le sue pitture le sue opere d'arte sono Alberto Burri era un medico un medito che è un chirurgo che ha servito durante la guerra e che si è trovato a dover rimediare alle devastazioni sui corpi distrutti dalle armi con quello che aveva spesso con sacchi di juta e diciamo così materiale non propriamente idoneo e allora rappresenta nelle sue opere d'arte sacchi di juta tagliati e ricuciti in altre fasi bruciature e poi i suoi cretti queste distese di argilla che di una materia che asciugandosi si crepa un po' come il terreno arido d'estate si spacca si fessura ed è lì che l'espressione artistica raggiunge il punto della bellezza la lacerazione la rottura la spaccatura la ferita sono espressione di bellezza un po' come nel grande famoso quadro di Caravaggio quel buco nella mela che segna un punto di corruzione del frutto in realtà è quello che ci restituisce tutta la potenza espressiva dell'artista bellezza bellezza e ferita ma che bellezza è quella che nasce e che ospita e che accoglie una ferita il volto di Manfredi ci urta per quella ferita che reca sul ciglio colpisce colpisce e ci chiama a uno sguardo più profondo che oltrepassa la superficie si potrebbe dire che è una bellezza sublime che non nasce da una sensazione di puro piacere legato all'armonia ma piuttosto dal disorientamento che la mente umana prova quando percepisce il proprio limite eppure vede la possibilità che questo limite sia oltrepassato è una bellezza in fondo carica di umanità non esprime un ideale tanto bello e canonico quanto astratto e algido descrive in fondo una condizione in cui ci sentiamo tutti rappresentati chi di noi non avverte il peso di ferite fisiche o dell'anima nel purgatorio la ferita c'è si vede ma non deturpa non sfigura non è così in altri passi della commedia nell'inferno ci sono molti uomini feriti e in molti casi la ferita è una punizione ad esempio accade a Bertrand de Born condannato alla pena di essere perennemente separato oggetto di lacerazione nel suo corpo si vede che porta la sua la sua testa in mano lui che era seminatore di scisma e di discordia viene purito con questa divisione nel suo corpo che si rimargina nel giro e ogni volta si riapre le ferite possono continuamente riaprirsi se non sono curate soprattutto le ferite dell'anima dunque la condizione di Manfredi sfregiato eppur non meno bello è una possibilità è una possibilità che è offerta alla nostra condizione umana però occorre comprendere chi e che cosa ha il potere di neutralizzare la forza deturpante di una ferita dello sfregio al suo volto ed è qui che passo al secondo punto riprendendo passaggi di questo canto stupendo abbiamo appena sentito che quando Manfredi compare davanti a Dante compie un gesto potentissimo plastico gli chiede mi riconosci Dante non sembra ricordarne il volto e allora Manfredi orvedi e mostromi una piaga sommolpetto per farsi riconoscere mostra le sue ferite di guerra evidentemente dunque Manfredi non solo reca una ferita ben visibile sul volto ma non fa mistero delle altre ferite che lo hanno colpito mostra ostende quasi esibisce le ferite del petto e molti hanno notato che il gesto di Manfredi mima somiglia al gesto di Cristo che per farsi riconoscere da San Tommaso dopo la resurrezione dice Tommaso vieni qui metti le tue mani nelle ferite del mio costato non è opinione mia è un parallelismo che molti hanno notato Manfredi come Cristo risorto per farsi riconoscere mostra le piaghe piaghe le ferite sono dunque segni inequivocabili dell'identità di una persona gli inquirenti lo sanno molto bene ma pensiamoci anche su di noi la nostra storia quanto le ferite subite concorrono a definire la nostra personalità la nostra identità le ferite che portiamo raccontano storie sono luoghi di memoria dopo una ferita una persona non è più la stessa la sua identità ne viene segnata viene ridefinita e trasfermata in Manfredi è stato ferito il corpo ma se ci pensate è ben paradossale che ritroviamo quella ferita in purgatorio quando la persona non è più presente fisicamente col suo corpo le tracce delle ferite permangono nello spirito cioè nel corpo aereo fatto di sostanza eterea delle anime del purgatorio ma il purgatorio è proprio il luogo dove quella lacerazione può essere riparata è il luogo dove la ferita ha la possibilità di trasformarsi in un sorriso dopo quel gesto in cui Manfredi mostra le ferite a Dante sorridendo disse io sono Manfredi è veramente vertiginosa la potenza di questa gestualità quante volte le ferite sono motivo di vergogna di nascondimento ai nostri stessi occhi e tanto più agli occhi degli altri e in Manfredi abbiamo invece non soltanto la preoccupazione di non di non nascondere ciò che si porta dalla sua vita passata ma addirittura di esibirlo e di mostrare attraverso quelle ferite la sua personalità la sua identità in questo modo Manfredi mostra a Dante non soltanto le sue ferite corporali ma anche quelle del suo animo e questo è ancora più impressionante gli racconta quegli ultimi istanti della sua vita che si sono consumati in quella che abbiamo imparato essere non una confessione ma una vera e propria conversione poscia che ho ebbi rotta la persona di due punte mortali io mi rendei piangendo a quei che volentieri perdona orribili furono i peccati miei ma chi vuole mostrare se stesso in questa veste non soltanto lacerato nel corpo ma raccontando dei suoi trascorsi per niente gloriosi ferito a morte in battaglia Manfredi si pente all'ultimo momento dei suoi orribili peccati e le grandi braccia della misericordia divina lo accolgono e nel momento in cui Manfredi viene colpito che si scuote a un pentimento quasi che proprio quelle ferite subite nel corpo siano paradossalmente l'occasione per quel passaggio per la conversione che inizia la guarigione della sua anima nell'abbraccio della grande misericordia un gran peccatore malfattore eretico scomunicato non finisce all'inferno il suo sorriso ai miei occhi lo dico da lettrice non esperta ma mi parla come di una pacificazione del suo animo una pacificazione carica della speranza che nonostante per la chiesa sia stato un peccatore eretico e scomunicato lui ora sia sulla via della salvezza tanto che chiede a Dante di andare da sua figlia a dirgli raccontale ciò che è vero e non sono all'inferno credo un paradosso proprio Dante che ha costruito una intera geografia per cui a ogni peccato corrisponde la sua pena rompe la logica ferrea della punizione del contrappasso e introduce eccezioni paradossale ma non è l'unico luogo in cui Dante ci sorprende lo nota bene un commentatore Justin Steinberg quando osserva che nell'articolata geografia normativa della divina commedia sembra che Dante abbia costruito questa architettura alla perfezione proprio per esplorare i casi limite le eccezioni alle ferree regole che lui stesso ha immaginato i pagani sono salvati i dannati compatiti i peccatori hanno una possibilità di speranza le condanne sono ridefinite per esempio Catone è posto a custodia dell'antipurgatorio pur essendo suicida e pagano ma ancora più Bonconte da Montefeltro in un canto attraversato anch'esso da immagini e da ferite causate dalla guerra viene inaspettatamente sottratto alla dannazione eterna nonostante una lunga serie di comportamenti violenti e viene strappato via per una lagrimetta grazie all'invocazione del nome di Maria in punto di morte come lamenta il diavolo che se lo vede strappato via proprio sul punto in cui se lo stava per acciuffare la giustizia in Dante a molti volti è sempre eccedente l'umana misura e per questo comprende molte eccezioni non è mai una pura logica matematica la giustizia di Dante non è né quella umana neppure la rigida giustizia luciferina dell'inferno tanto che quando parla della giustizia umana Dante si rivolge a noi uomini dicendo e voi umani tenetevi stretti a giudicare ci mette in guardia da una fallacia del giudizio umano giudizio giuridico ma ancora di più giudizio morale che dispensiamo con allegra faciloneria illustrandoci proprio un punto un'immagine in cui la giustizia umana ha fatto il suo corso il pontefice clemente aveva gli aveva inflitto la scomunica con quella immagine in cui viene fatto trasportare viene fatto uscire il corpo di Manfredi dal regno a lume spento proprio come si fa per segnalare la condizione di eretici e scomunicati e però questa non è l'ultima parola sulla vita delle persone su questo punto permettetemi di fare una digressione tratta da qualche episodio che riguarda i giorni nostri soprattutto in questo periodo in cui si parla molto di punizione di carcere di rivolte di tensioni è un tema che sta tornando tanto nel dibattito pubblico e io vi racconto semplicemente quello che mi è capitato qualche settimana fa ricevo tramite un conoscente una lettera di un detenuto di opera opera il carcere uno dei carceri di Milano che mi ha fatto avere una lettera e un dono il dono ce l'ho qui è un ricamo è l'immagine del giudice Livatino ricamata con un finissimo punto croce che è frutto del suo lavoro e lui mi spiega che da quando ha ricevuto la sua condanna appunto Nergastolano ormai da più di 27 anni in carcere dice che parole sue perché il cuore non scoppiasse la mente non impazzisse ho preso ago e rocchetto tanti anni fa perché la stoffa è come la vita è data a me la possibilità di renderla migliore in ogni ricamo racconto quello che non ho saputo fare e che ho imparato piano piano ma non è questo il punto più impressionante in questa sua lettera mi racconta la sua storia che è la storia di un uomo che da giovane ragazzo aveva perso prima il fratello e poi il padre e il figlio uccisi per mano d'uomo dopodiché è stato trascinato in una vicenda appunto di vendette come a volte capita quando le ferite non vengono non trovano altri modi di cura e lui stesso si era macchiato di reati non meno gravi dopo molti anni di carcere a un certo punto viene trasferito a Voghera e mentre si orienta in questa nuova situazione di detenzione si racconta così arrivato a Voghera notai un uomo che tremava vicino al frigorifero aveva il morbo di Parkinson ma io lo riconobbi era l'assassino di mio fratello senti tutto il dolore riemergere dalle viscere della terra ed entrarmi dai piedi per risalirmi in tutto il corpo mio fratello mio padre mio figlio ora lui era lì davanti a me il dolore offrì la mano all'odio che mi disse fallo ora fallo subito non avrai un'altra opportunità sono 27 anni e tre mesi che attendi ero un felino pronto ad aggredire ma quando mi ritrovai a un metro da lui quest'uomo alzò la testa e mi disse Antonio Antonio sei tu? era lui ero davvero io guardandolo negli occhi ho capito che io ero diverso che ero migliore degli uomini che eravamo stati e così ci siamo salutati e non gli ho nemmeno chiesto perché mai avesse ucciso mio fratello da quel momento nel carcere di Voghera Antonio viene affidato questo uomo malato di Parkinson Giuseppe la cui situazione come in questo tipo di malattie stava degenerando fino a quando un giorno Giuseppe non ce la fa più cade a terra e Antonio è lì nel momento in cui questo uomo si affaccia ai suoi ultimi momenti di vita e dice così mentre cercavo parole di Antonio mentre cercavo di rialzare Giuseppe e capivo che non c'era più niente da fare è stato come tornare indietro mi sono reso conto che stavo di nuovo riabbracciando mio fratello morto mio fratello mio fratello Giuseppe queste sono frutto non della grande e umanissima immaginazione di un grande poeta come Dante sono fatti impensabili impossibili incredibili che accadono nelle condizioni pur difficilissime delle nostre carceri di oggi questo perché l'ho sottolineato perché la condanna di questo uomo non è messa in discussione ma quando si guarda la vita di una persona come ci era detto già poco fa bisogna sempre tenere presente che c'è qualcosa che può sfuggire alla nostra comprensione umana ricordate quel verso state contenti umanagente al quia che se aveste potuto vedere tutto noi non vediamo tutto tenere conto che c'è sempre una possibilità che ci sfugge che c'è sempre un elemento misterioso nella vita dell'altro pone chi guarda chi giudica da qualunque punto di vista umano giuridico morale in una postura di umiltà di apertura essenziale a chi ha il compito di giudicare e qui vengo all'ultimo passaggio che una ferita non deturpi non continui a sanguinare non continui a far riemergere quel senso di odio che abbiamo sentito nelle parole di Antonio dopo 27 anni l'istinto primo era di reagire in forma di vendetta ma sia al contrario l'occasione di una cura quest'uomo che ha perso padre figlio fratello per le mani di un altro diventa quello che si prende cura del loro assassino quale giustizia può portare veramente alla cura di ferite così profonde e inimmaginabili quando si è vittima di un'ingiustizia non è infrequente rimanere intrappolati nella spirale del risentimento della vendetta della rabbia amara che avvelena l'animo che cosa ci permette di non diventare un Bertrand de Bourne che ad ogni colpo ad ogni giro subisce la stessa ferita che si riapre un girone infernale e avere invece il volto sorridente che sa mostrare le ferite immedesimiamoci nei bisogni delle vittime di chi quelle ferite le ha subite è naturale che insorga un senso di rabbia soprattutto quando ci si sente soli abbandonati impotenti isolati con un danno irreparabile di cui nessuno si fa carico la punizione in questi casi è necessaria lo abbiamo sentito poco fa e anche Manfredi si prende la sua punizione sta lì 30 volte il tempo della sua scomunica ad aspettare di iniziare il suo cammino la domanda non è se la punizione sia necessaria o meno la domanda è ma la punizione è sufficiente a colmare i bisogni delle vittime necessaria sì ma è sufficiente si dà per scontato che chi ha subito un reato sia pagato dalla punizione però ricerche sul campo domandatelo alle persone che sono state protagoniste loro malgrado di fatti di grave entità hanno un sentimento ambivalente verso la punizione perché di fatto non è in grado di riparare quel danno che è stato fatto a loro quello che chiedono è verità e riparazione cioè accertamento delle responsabilità per questo è indispensabile il processo ma riparazione delle loro vite per chi non lo conosce invito a leggere un libro che ha scritto Gemma Calabresi qualche anno fa che ha a che fare con le ferite perché si chiama proprio La crepa e la luce in cui parafrasa un famosissimo verso di Leonard Cohen in cui dice che è solo dove c'è una crepa che la luce entra lei racconta della sua vita giovane mamma di tre figli a 29 anni in cui le viene ucciso barbaramente suo marito negli anni di piombo lei racconta di quanto tempo è durato quel senso di vendetta quel bisogno di vendetta che le faceva sognare di notte di infilarsi in uno dei gruppi armati di fingersi uno di loro per poter imbracciare le armi esterminarli tutti quanti e poi racconta il suo percorso la sua pacificazione il suo cammino umano che la porta oggi a essere una delle testi ma ci sarebbe voluta lei forse più di me a commentare questo canto e ci sono altri episodi altri personaggi veramente emblematici di questo sentimento di vendetta capace di trasformarvi sì un grandissimo protagonista della storia del novecento del Sudafrica dell'Apartheid Albie Sachs è un uomo che ha combattuto per sconfiggere l'Apartheid e ha combattuto a tal punto da essere stato incarcerato per lunghissimi anni aver subito una serie di attentati fino a quell'attentato che gli ha fatto perdere un braccio e un occhio quando era in ospedale per essere curato da queste gravissime ferite per niente gloriose ripugnanti anche i suoi compagni si avvicinano e gli dicono non ti preoccupare Albie ti vendicheremo e lui scrive nel suo libro mi vendicherete l'occhio per occhio dente per dente braccio per braccio è un'idea che mi riempie di angoscia è questo ciò per cui ho combattuto è questo ciò per cui ho perso un braccio e un occhio per un Sudafrica pieno di gente senza braccia e senza occhi da lì inizia tutto il suo impegno civile intitolato la vendetta gentile che è la ricostruzione di un paese e di una struttura democratica anche attraverso un impegno pubblico molto significativo non è straneo il senso di vendetta ma è un senso di cui le vittime stesse avvertono di aver bisogno di potersi liberare un esempio forse diciamo più vicino a noi più vicino alla gente comune non meno grave mi ha colpito quest'estate ho letto sul Corriere perciò se diciamo distorco il pensiero della protagonista non me ne vorrà ho preso semplicemente una notizia da lei non le ho mai parlato è una ragazza della Uno Bianca una ragazza Francesca Girardi che da bambino aveva raccolto un evidenziatore sulle rive del Piave l'evidenziatore era carico di esplosivo e anche lei ha perso la mano destra e la funzionalità di un occhio Francesca si è data da fare riporta questa notizia di giornale che si è battuta tenacemente per far riaprire le indagini perché ancora non ha un nome un volto il responsabile di questo fatto e scrive così sono molto felice che le indagini stiano andando avanti e ci siano nuovi sviluppi che il caso non sia dimenticato confido che si giunga il responsabile di tanto dolore c'è un bisogno di accertamento delle responsabilità e delle verità che è il primo passo per prendersi cura delle ferite delle vittime ma alla domanda del giornalista che le chiede perché vuole sapere chi è stato perché dice di voler incontrare il responsabile la ragazza risponde virgolettato ci spero con tutto il cuore non so ancora cosa potrebbe significare sapere finalmente chi è stato come potrebbe cambiare la mia vita arrivare a una verità tanto attesa ma sono certa che darebbe una svolta a tutto ai ricordi alla terribile esperienza vissuta alla persona positiva e ottimista che comunque oggi sono diventata chiuderebbe una ferita ancora aperta perché questa giovane donna chiede di riaprire le indagini arrivare all'accertamento della verità ma ripone anche tanta fiducia nella possibilità di incontrare il responsabile perché questo bisogno di guardarlo faccia a faccia questa testimonianza ci porta al significato della giustizia riparativa che è una forma di giustizia l'ultima arrivata nel nostro sistema che si basa proprio sull'accertamento della verità da un lato nelle forme processuali a cui affiancare questo è l'elemento di novità l'incontro se liberamente accettato tra le vittime e i responsabili un incontro alla ricerca di che cosa non siamo ingenui non è nelle cose umane poter garantire che si arrivi a un perdono a una riconciliazione a una pace ci vuole la misericordia di Dio e le sue gran braccia per questo eppure quell'incontro ha una potenza di liberazione delle memorie dei responsabili e delle vittime memorie che tendono invece a congelarsi e a rendere insopportabili tanto i vissuti di colpa per quanto riguarda gli offensori quanto le ferite subite velenose quando diventano cariche di rancore di odio di desiderio di vendetta tra le vittime l'incontro la narrazione reciproca l'ascolto l'intreccio di racconti e narrazioni in un ambiente riservato su cui si basano queste esperienze che già esistono in molte parti del mondo e anche da noi di giustizia riparativa che cosa fanno? Permettono di scongelare quei vissuti e di volgerli a un futuro ciò che la giustizia riparativa vuole è anzitutto offrire la possibilità di liberarsi dai fantasmi del passato e una possibilità di guardare al futuro per questo è detta una giustizia che cura il nostro autore con cui abbiamo aperto queste riflessioni John Brightwaite uno dei fondatori di questa nuova forma di giustizia dice che la restorative justice è la giustizia dell'incontro che dà ristoro alle vittime ai perpetratori e all'intera comunità che ne trae beneficio è una giustizia che non abbandona le ferite chi le ha subite e chi le ha agite nell'amarezza della recriminazione di non aver potuto vivere un passato migliore è una giustizia che si fa carico della possibilità diremmo con Manfredi della speranza di un futuro trasfigurato grazie credo che questo applauso dica grazie il nostro grazie a Marta Cartabia ma anche a Giuseppe Ledda che ha coordinato questo incontro a Francesco Santi e al mitico Jacopo Trebbi fatti vedere Jacopo fatti vedere grazie a voi che avete condiviso con noi questa esperienza grazie a chi l'ha resa possibile agli sponsor grazie a chi vorrà fare una donazione ricordo che è possibile rivolgersi ai volontari con le magliette arancioni mi chiedo di ricordare l'evento successivo 19 e 15 in Cappella Farnese una presentazione di un libro Democrazia la sfida della fraternità grazie ancora a tutti e a tutte